Allora adesso andiamo poi ad aggiornarci ulteriormente con la cortesia di Antonio Sanò che abbiamo già sentito ieri di Meteo.it Il Meteo.it Il Meteo.it Sanò, buongiorno, eccoci Buongiorno, grazie per l'ospitalità Grazie a lei Allora, siamo come ieri o sta cambiando qualcosa? Tutto è confermato? Allora, è confermato quasi tutto, ovviamente ci sono delle piccole correzioni da fare perché continuamente i sistemi matematici ricalcolano le condizioni iniziali quindi poi le previsioni vanno Dicevo domani peggioramento su tutte le regioni centrali con neve, neve anche a Roma a partire da Roma Nord già dalla mattina Quindi le zone Nord, ma non è attesa neve in centro di Roma In centro di Roma Solamente alla mattina sulla periferia a Nord A Nord, sì, Roma Nord Fortemente colpito tutto il Lazio settentrionale e ovviamente le zone montuose e collinari Poi avremo un momento della giornata, cioè le ore centrali in cui sarà prevalente la pioggia Invece dopo le ore 16 e soprattutto dalle ore 19 invece la neve inizierà a depositarsi al suolo anche nel centro Con qualche centimetro di neve tra le 22 e le 4-6 della mattina di sabato Attenzione che allo stato attuale è prevista una nevicata meno abbondante dell'ultima volta Quindi qualche centimetro in meno stiamo calcolando intorno ai 4-5 centimetri in centro al massimo Ovviamente sarà molto difficile prevedere i 6 centimetri E le zone dove è più probabile comunque che si crei uno spessore maggiore sono le zone Nord di Roma Ho capito, molto bene, va bene Insomma per certi aspetti ci ha leggermente rassicurati Perché mi sembra che l'entità del tutto così interpretando le sue notizie è inferiore a quella del weekend scorso Sì dovrebbe essere riportata inferiore però questo non vuol dire No certo, massimo allarme Massimo allarme e anzi memory e dell'esperienza passata bisogna provvedere Certamente, noi la ringraziamo, ringraziamo tantissimo Antonio Sanode, ilmeteo.it Grazie mille Grazie davvero Grazie a voi, a presto